Buonasera, sera, sera, per chi non ha la R, buonasera. Siamo qui da Prosinone, oggi Doomsday, diciamo, per i 5 minuti fatte da Uncool. Che piacere, che piacere. Questa è una super diretta di... no, diretta no, YouTube, è una rubrica per un anno. Mandiamo un messaggio. Qual è il tuo messaggio? Non dite mai la vostra identità. Non divulgatela, create ne alcune, depistate tutti quanti. Questo è il mio messaggio. Non lasciate tracce, cancellate tutte le cose. Questa sera, un minuto a ospiti, diciamo perché sono 5, gli ospiti no, sono 4, devo scappare. Allora, qui c'è il pelatino meraviglioso. Buonasera, beviamo dell'ottima acqua in questa sera. E questo è il tuo messaggio, ma l'acqua a sacco è buona? O no? Sprezzante. Ma a sacco è buona o no? Buonissimo. Non mi fa lice cazzata. La colpa è mia, vabbè. Questo è un parterro d'eccezione. Un parterro meraviglioso. Gli artisti. Buonasera. Ciao Elena. Buonasera, che piacere averti qui. Anche per me è un onore, davvero. Grazie. Grazie di esserci. E che cosa vuoi dire? Che cosa ci sai? Ma niente, facciamo dei disegni liberi così, senza... Cioè, con l'ispirazione del momento. Questo che cos'è? Un uomo rivolto al passato? Questo è Gianluca, uno che fuma erba legale. Davvero. Però è il nostro amico, è amico nostro. E niente, questo qua. Li vediamo bene. Anch'io. Prego, passo anche al tuo compagno Paolo. Eccolo qua, il nostro compagno. Cos'è? Lo che faccio? I compagni, i compagni. Lo stiamo fatti, ti credo. No, vabbè. Anzi, potete, si può vimpare. Che... Compagni, il tuo messaggio per il mondo è questo? C'è il messaggio. Dai. Comunque le faccio, non so. Che cosa? E' una coppia di fatto, sti tu, ragazzi. Simo si sposano, loro per un po' fa sì. Ma l'anno prossimo organizziamo il matrimonio di Paolo Fiorini e Stira Man. Lorenzo, per gli amici Lollo. No, Lollo, Lollo. No, Stira, per gli amici Stira. Stira per tutti. Paolo Fiorini, che stai disegnando? Gesù. Ma che ne so? Tu che stai facendo? I cinque minuti di fatte d'un c***o con degli ospiti speciali, guardate, super sponsor by Powerhead, Zieta. Zieta, you know, yes. This is social real. L'abbiamo notata. Solo tre minuti, mi so sbrigata, eh. Se no vi faccio i pezzi, ragazzi. State a pezzi. Continuiamo, vabbè. Io continuo a fumare, io continuo a fumare. Come si? La serie televisiva vi pare brutto se la iniziamo tutti insieme da vedere. Scusate, scusatemi tanto, avevo dimenticato la super special guest della serata. l'abbiamo notata. Il mitico. Oddio. Sto vicino a me, vieni fuori. Vicino a Stira. Dai bacetti a Stira. stira odia i gatti non ho di gatti è allergico ai gatti stira voglio essere come te